Lo spettro di un nuovo forfè di Fabio Tito mette in allarme Rastelli e i suoi. L'ex Juve Stabia non ha partecipato neanche ieri agli allenamenti facendo suonare l'allarme rosso per la fascia sinistra. La costola evidentemente è ancora dolorante e solo a piccoli passi si potrà capire se sarà o meno della contesa. Dalla sua Massimo Rastelli non può correre rischi e la valutazione della partita contro il Celignola può aiutarlo ad evitare qualche errore. L'assunto è certo, sulla fascia sinistra Tito non ha il sostituto. Sottini non è pronto, Auriletto potrebbe adattarsi, Rizzo non ha dato garanzie. Per il resto è in bilico anche Mazzocco che sta gestendo i carichi di lavoro, espressione con la quale a volte si traduce qualche noia muscolare. Al suo posto è in Pol Francesco Maisto con il quale in questi giorni Rastelli ha parlato molto. Il ragazzo quando è stato chiamato in causa non ha deluso le aspettative e potrebbe avere una buona chance di rimettersi in mostra. In avanti pare, scaramanzia a parte, che tutto sia nella norma o forse di più. Visto l'andazzo l'eccezione è di Gaudo in gruppo, Trotta che ha rifiatato un po' ieri si è allenato con i compagni così come il resto della truppa. Rastelli dovrà partire dalle certezze per poi tamponare le emergenze. La prima è un ritrovato Trotta che deve dare manforte a Marconi, l'altra è Raffaele Russo che a sinistra mette in crisi le difese avversarie. In fondo la legge del calcio non è non prendere gol ma farne uno in più degli avversari, dunque attacco carico per provare a tamponare le emergenze degli altri reparti.